Ha svegliato gli archeologi perché fino al 1991 nessuno aveva immaginato che a quelle quote si trovasse degli oggetti archeologici e addirittura una mummia così ben conservata con le armi e tutti i vestiti e i suoi attrezzi. Una scoperta tanto inattesa e sorprendente quanto rivoluzionaria per l'Alto Adige, sì ma anche e soprattutto per la ricerca scientifica dell'umanità. Trent'anni fa veniva alla luce la mummia di Ötzi, un uomo vissuto tra il 3000 e il 4000 avanti Cristo. A conservarlo è stato il ghiaccio. Col movimento del ghiacciaio un oggetto che viene accolto dal ghiacciaio viene portato giù fino alla lingua, fino al termine del ghiacciaio. Oggi questo Ötzi ci racconta la vita di quasi 6.000 anni fa. È incredibile. Nessuno di noi pensava che avessero già le scarpe adatte. Anche i vestiti adatti per andare in quelle quote. Vogliamo ricostruire microorganismi nello stomaco di Ötzi. Questo cosiddetto microbioma dice molto sulla salute di noi. Un reperto preziosissimo per comprendere l'evoluzione dell'uomo negli ultimi millenni. E ovviamente anche un'attrazione turistica per tutta la Val Senales. Dall'anno scorso abbiamo la piattaforma 3.251 metri. È la possibilità per chiunque andare su e orientata verso il posto dove fu trovato Ötzi 30 anni fa.